Il colonnello Hoffman ci aspetta. Oh, merda. Ci sarà da divertirsi. Ehi! Tu sei quel Marcus Fenix? Quello che ha combattuto Raspio Fields? Eh, già. Wow, figo! Mica tanto. Tu, un traditore come te, non merita di indossare l'uniforme. A me sembra che vi serve ogni aiuto possibile. Levati di mezzo. Tenente, buone notizie. Abbiamo un piano per porre fine a questa guerra una volta perdute. Sì, come no. I sensori rilevano movimenti nemici, signore. Sono vicini. Locusti! Locusti! Al riparo! Muoverci! Merda! A destra! Abbiamo la bomba solare. Eliminerò tutti quei bastardi in un colpo solo. Lassù! Non funzionerà. Non abbiamo le coordinate del bersaglio. Per questo ci serve il risonatore. Copriteci ai lati! Mancato! Creerà una mappa dei tunnel. Così potremo eliminare quei vermi proprio dove vivono. Ora mi incazzo! And vai! Assù! Quanto sono resistenti! Abbiamo perso il contatto con la squadra Alfa. L'ultima trasmissione veniva da Embry Square. E restano qua. Dovete andare là. Trovare quei uomini e piazzare il risonatore. Avremo supporto aereo? Cosa? Stai scherzando? Siete voi il supporto, figliolo. I Nemesis stanno intracciando il supporto aereo. Dovrete vedervela da soli. Siamo fottuti. Restano due. Tutto ok. Il tenente vi comunicherà le informazioni necessarie. Sì, signore. Ora la cosa migliore sarebbe andarsene. Tu, vedi di farlo. Che soddisfazione. Da te mi aspetto il 110%, Fenix. Non lo sto facendo per te. Rinforzi i nemici. A riparo. Pronto a combattere. Presto offre la casa. Buona fortuna, Delta. Su per le scale. Gli alfa aspettano. Ok, amico. Andiamo. Sei pronto? Mi sa che... Com'è? Com'è di te. Passa. Dameri! Merda. Vermi! C'è il balancio! Granata! C'è il balancio! Oh, ferme a Dan! Granata! Pronto a combattere! Fermi! Fermi! Magus! Tuoi fianchi! Fermi! Ah! Reptite! Fermi! Vai! Capito. Capito! Vermi! Marcus! Mi piace! Arco, piano sinistro! Terra! Terra! Granata! Un ferme, Andatus! Let's die! Ah, oh merda! Ora va bene. Ah, dandazione! Ah! Granata! Ora va bene. Controllo, qui Delta. Abbiamo una visuale sugli Alpha. Forse sono morti. Nessun segno del risonatore. Ricevuto, Delta. Continuate a cercare. Io apro la porta. Ho il codice. Ho preso uno! Ascuti! Oh! 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 Ah! Abbiamo una visuale sugli Alpha. Forse sono morti. Nessun segno del risonatore. Ricevuto, Delta. Continuate a cercare. Io apro la porta. Ho il codice. Granata! L'autocopante. Prezzo. L'autocopante. E il prossimo. Presi. Spero che quello non sia Rojas. Suo figlio ha appena due anni.